Buonasera e bentornati in questo nuovo video. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati con i nuovi aggiornamenti meteo. Ora andiamo a vedere la tendenza meteo, attenzione, tendenza non previsione per il meteo di settembre, visto che con il primo settembre si avvierà l'autunno dal punto di vista meteorologico. Per quanto riguarda le temperature avremo temperatura di 0,5 superiore alla media in quasi tutto il nostro territorio, però soprattutto al nord, ad eccezione delle regioni come la Calabria, la Puglia, la Sardegna e parte del nord ovest italiano e anche del medio adriatico dove le temperature saranno in media. Per quanto riguarda le precipitazioni invece avremo precipitazioni al di sopra della media al centro nord, più imbarcato al centro, diciamo precipitazioni sopra media fino al Lazio compreso. Tutto il sud, la Sardegna invece precipitazioni in media, ad eccezione della Sicilia dove potrebbero essere al di sopra della media. Per ora è tutto, ovviamente vi ricordo che questa è solo una tendenza adattata ai modelli previsionali e stagionali, ovvero è una tendenza stagionale, quindi non è nulla di certo. Vi invito ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati. Alla prossima!